Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema riguardo alla connessione di download che non funziona ovviamente se adesso vado a mettere riprendi su Fortnite come avete visto ha iniziato a 0.000 byte o kilobyte al secondo e poi è arrivato a 9 megabyte ovviamente sta continuando a salire la velocità di connessione per risolvere questo problema andiamo un attimo su tasto start più R ad aprire la schedina esegui puoi direttamente scrivere esegui qua sopra eseguiamo così la cartella e dobbiamo andare nella cartella di app data fai ok scendiamo fino a giù fino a trovare la cartella di epic games noi dobbiamo eliminare questa cartella ovviamente in questo tutorial ti spiegherò due metodi o facciamo questo o facciamo un altro metodo quindi vado in app data local scendo fino a giù fino a trovare la cartella epic games epic games launcher e epic online service user helper ovviamente prima di fare questa procedura ti consiglio di chiudere epic games chiudiamo epic games e eliminiamo queste tre cartelle è aperto un altro programma ok abbiamo riprova ok abbiamo cancellato tutte le cartelle una volta fatto apriamo un attimo epic games accediamo così al nostro account inizializzazione in corso e download funziona se non dovesse funzionare con questo metodo riguardo alle cartelle epic games io ti consiglio di installarti una vpn che si chiama wind scripe un'ottima vpn eccola qua ovviamente ti daranno tipo 2000 megabyte da usare quando devi scaricare oppure usare la tua vpn la puoi scaricare eccola qua questa è la vpn scelgo così il paese mettiamo atlanta e ci connettiamo ad atlanta siamo connessi a questo server e andiamo a scaricare fortnite ovviamente come puoi vedere da zero è arrivato a 4 megabyte al secondo almeno sta scaricando però sto facendo poco perché io sono connesso a un altro paese quindi gli stati uniti in atlanta e piano piano sta salendo quindi se questo video ti è stato utilissimo o cancellando le cartelle di epic games le cache di epic games e aprendo epic games e poi puoi direttamente scaricare una vpn o proton vpn o wind scripe o altre vpn che sono a pagamento però puoi usarle per un periodo di giorno e tanto devi solamente scaricare l'aggiornamento quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao